L'aula d'un tribunale Eccoci qua in questo bell'uovo infamante Chissà se che chi anche muo il ciocchi gira l'altra volta Entra la corte! E la giustizia la ho io Imputato, venite avanti Pronto capo? Toglietevi pure il cappello Ah non mi dà mica fastidio grazie Non si sta col cappello davanti alla giustizia Ah beh, se c'è di mezzo una signora Come vi chiamate? Felicite Copp Vostro padre? Sta bene, grazie Voglio sapere il nome di vostro padre Ah il nome, il nome è Fu Ignazio Ma come Fu Ignazio? Ci avete detto prima che sta bene Mi spiego meglio Siccome quando era vivo aveva sempre come dire un po' di febbriciato il male i reni eccetera Adesso che è morto spero che stia meglio ecco Dove siete nato? Milano, Lombardia Abitante? Via del Zenzuino 112 Quanti anni avete? Dunque, anni faccia... Faccia 40 Qui risulta 44? Sì, sì, sì Ma siccome vedi 4 li ho passati in galera e loro credevo che non contassero Professione Professione Ecco, che lo facendo diventa si folina Professione Meta commerciante benefattore Spiegatevi meglio Spiegherollo Dunque, commerciante perché commercio in orologi con catena non mi piace mica la roba di scompagnata portafogli borsetti di signora et affini E benefattore perché vede illustrissimo presidente quando io trovo qualcuno da alleggerire da un peso morale insomma lo faccio volentieri ecco Mi pare di avervi già visto un'altra volta Sì, ma anche lei non è mica una faccia nuova Ora che mi ricordo se non sbaglio una volta vi ho condannato per il furto di una mezza forma di grana Non sbaglia mica caro signor presidente non sbaglia mica ma è stato un errore giudiziario io sono figlio di un errore giudiziario anche quella volta lì è andata in sci no? C'erano fuori delle forme di formaggio no? Con su dei cartelli scritti scritti con delle parole di carattere cubitale che dicevano formaggio da grattare e mille lo grattà Sì, sì, sì e adesso raccontatemi come è andato il furto del cane Subito, eccellenza dunque mi seri lì sull'angolo della via Tre Alberghi con via Carlo Alberto che guardavo dentro a un negozio di roba di oro Una oreficeria Sì, sì una rosticeria senz'altro ero lì che guardavo dentro noi dicevo fra me e sé ma guarda quanta grazia di Dio c'è lì dentro e magari oggi c'è qualche povero disgraziato che non ha neanche un pezzo di pane da mangiare allora mi è parsa di sentire di dentro come la voce dell'arcangelo Gabriele che mi diceva te coppa ci diamo del tu perché siamo in confidenza mi diceva te coppa pienti dentro un pugno della vetrina e prendene magari una brancata da distribuire ai poverelli stavo attuando il proposito quando è che ti vedo arrivare due reali carabba carabinieri vero che venivano da lontano e allora ho detto alt che magari quelli lì hanno mangiato il rancio che l'era mica buono non l'hanno mica digerito va mingato la voce dell'arcangelo Gabriele e mi portano in galera e fanno il loro dovere dice per me fanno male comunque in quel mentre passa il mio amico Grugnetti con un cane barabino nero legato con una funicolare di corda no? allora mi dice te coppa ciappel can che mi vuoi merica mi che fu mappodino come fu come l'è come non l'è lui mi fa ciappel 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 lei capirà mia fria sentì ciappel 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 al pensiero che quella povera bestia andasse a raminga ed esule per lì talo sentiero l'ho portata a casa mia poi se lei non crede a me fra poco viene qua il mio amico Robiati a fare una bella falsa testimonianza capisci? ora vorrei sapere quanto vi è costato il cane per il vitto per il mantenimento ah ecco dunque insomma biancheria niente perché dormiva con me mangiare mangiava né mangiava quello che mangiava mia moglie però mangiava forte poi ci abbiamo fatto anche un po' di ricostituenti perché allora ero un po' deboli in di gam de dre capisci? poi venendo l'inverno abbiamo pensato di farci anche un tabarello grigio verde un po' sciancrato e plisse insomma mi costa un 40 lire presidente se lei mi dà ste 40 lire noi siamo pari e andiamo tutti a casa 40 lire? come vede signor presidente il mio cliente in questo caso non ha certo fatto un buon affare ma si sa però che il te coppa ha maestrato il cane e lo presentava sulle pubbliche piazze traendone benefici in denaro non è vero giammai lo giuro sulla famiglia di mio cognato perché la mia è troppo numerosa non ho mai approfittato della bestia sono sempre state le bestie che hanno approfittato di me guardi mia moglie la mantengo da 30 anni la me mette a verbale questa frase? fate entrare la parte lesa Gustav Maria cartelle della lotteria bonjour a tout le monde buongiorno voi come parte lesa non siete in obbligo di prestare giuramento però dovete dire tutta la verità intesi? come vi chiamate? Mary Gustav vostro padre? Michel quanti anni avete? 25 ans ecco la gara 25 ans era meglio tanto stuva perché che non porta via silenzio te coppa oh signore dove siete nata? a Saint Petersburg siamo falchetti roba di campagna raccontatemi il fatto dunque je me promenai lungo la rue Manzoni avec mon petit chien comment di vu chien? cane ah oui oui cane se dice cane cane madame cerchè di parler un po' plus clair perché chi se capisce il negozio si capisce silenzio eh ma se si capisce niente silenzio continuate signorina tutta di suite mon petit chien cane il l'était plus guardate un po' se riconoscete nell'imputato l'uomo che vi ha rubato il cane oui oui c'è lui ma che lui sa prescindere dal fatto che vi mettiamo i felici se entra a lui e poi madame se vous credete venire in Italia a fare la guerra all'italien vive sbagliere de gros ma madre la zuppa esca e la terrona del nord bolleur bistec malone roast beef cochon ma coupe il brutto bestia fate entrare la testa Teresa Scarabelli Teresa Scarabelli stringhe bindelli e bouton di camisa buongiorno suo presidente come vi chiamate Teresa Scarabelli di Filippo nata a Milano dite con me giuro di dire la verità di dire la verità tutta la verità nient'altro che la verità lo giuro lascio a memoria ormai vengi sempre chi è lei le chi un di si un di no quanti anni avete uffa che roba antipatica tu ti vuol che vengi chi me tu che di me non è corretto con una signora mi me secca ecco beh comunque di un 25 suonati suonati e ribattuti quando i francesi entravano a magenta raccontate ciò che sapete circa il furto del cane mi so niente mi so domani anche il mio mario e mi ha detto che Gepardi aveva sentito un dia il Tecupa ha detto quanto mai urubalcan tutto qui non era sicuro allora no Gepardi siete in libertà fate entrare il test Agostino Robbiati Robbiati Agostino vengi come test siete in obbligo di prestare giuramento e di dire tutta la verità mi la verità la disi sempre allora dite con me giuro eeeh dite giuro eeeh oh ma che toni molto va bene te parlare un dialettico e me capirei più se eh te deve di qualche disi mi te capii oh dunque allora giuro giuro oh finalmente oh finalmente no 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 finalmente disi mi avanti giuro di dire la verità tutta la verità nient'altro che la verità giuro di dire la verità tutt'altro che la verità nient'altro che la verità nient'altro che la verità sette giù sette giù sette giù sette giù sette giù sette giù oi ma decidevi se no stiamo tutti in fecchio silenzio oh signor come te se ciamet agostino robbiati il nome del padre e del figliuolo e dello spirito santo il dio te manda del bene ma se ne trefala prima come gnocchi tuo padre eh 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 alle morti ho fatto come alle morte di te ridete ho piaccito a tua luna che adesso ridi e perchè adesso la finì il luto ma se posso avere il nome di tuo padre e spara gandulite detto peter conosci il qui presente felice di coppa si e conosci le venute del bene gossi in quella che passa il grugnetti e il gatti te regali il ca perchè vuoi in america a verbale questa frase io mi oppondo insisto che venga messa verbale ed io nuovamente mi oppondo questa è un'indecenza abbandono l'aula e io vado io col mio avvocato lei non può abbandonare l'aula va bene per questa volta io lo faccio restare qui il mio avvocato e rimango anch'io per solidarietà ma voi altri cercate di fare le cose un po' boleto se non qui andiamo tutti in galera andiamo voi fate silenzio che è meglio robbiati te siete in libertà se c'ha una gota va bene avanti avanti se sarei a regnino la parola al pubblico ministero signori del tribunale il rappresentante della legge si trova questa volta davanti a un imputato che è uno dei tipi più pericolosi per l'umana società oi taglia giù dei grossi che danno la pelle mingatua non ci possono essere dubbi sulla colpevolezza dell'imputato ed è perciò che io chiedo per felice tecoppa colpevole del reato di cui all'articolo 482 del codice penale con l'aggravante della recidiva una condanna di due anni di reclusione più 200 lire di multa e io non accetto la parola alla difesa signore del tribunale oi camamela si si un po' di coraggio altrimenti mica mi condannano la vita signori del tribunale ecco va già meglio io non adopererò molte parole perché non c'è proprio bisogno di tanto per dimostrare l'evidente chiara quasi palpabile l'innocenza del mio difeso bravo grazie prego silenzio coppa va avanti da un mingatrati felice tecoppa è un uomo di grande cuore egli ha preso il cane dell'amico grugnetti e l'ha tenuto presso di sé trattandolo direi quasi come un proprio figlio povera bestia anzi povere bestie signori del tribunale bravo digil digil dillo senza paura povere bestie di bestie va avanti va avanti quindi 60 è la giustizia 70 è la mia certezza 80 fiducia che il mio cliente abbia 90 probabilità su 100 di vincere la tombola bravo avvocato dopo una ringa come questa avevo mangiamo una saracca imputato avete qualcosa da aggiungere? io veramente avrei qualche cosa da levare ma dopo le sacramentali parole pronunciate testè orora pocansi dal mio illustre avvocato professor scaoalcatec mi vengono le lacrime agli occhi se penso che il mio povero babbo dall'alto dei cieli vede questo suo figlio condannato innocente ed è per questo che vi dico giudici ricordatevi del povero fornareto di venezia ricordatevi questo tribunale dichiara di non essere il luogo procedere siete libero prego siete libero potete andare posso andare in due vado via ma scusi tanto presidente illustrissimo eccellenza ma quei mesi che io ho passato in galera in attesa del processo a me chi è che me li rimborsa ma come ma non siete contento di essere rimesso in libertà no no per quello sono contento lieto esulto non si vede esulto sa cosa facciamo facciamo così i mesi che io ho passato in galera lei presidente me li tiene buoni per la prossima volta va bene finisci in una casa signorile è notte venga avanti te cupa hai mi vergogno venga avanti te disi senti grimaldelli per me la mancanza di educazione entrare in una casa di notte quando il padrone che minga così l'anime che così l'anime se mi chiamano le mingamenti votmese e poi le mingano anche tanto per la presione perché tanta quella che sono abituato quanto per l'interdizione perpetua dei pubblici uffici se entra io a votare ci tengo ma di cosa lei che ti hai paura no paura è un po' il coraggio che mi manca e poi insomma mi sei godinito il furto a domicilio il mio no ma scusa i padronchi minga e se abitura andà l'anime dunque ben sì mi adesso fu passare stanza ti sta attento e se ti senti qualcosa fai il fischio solido ti capito ui ui si ma fa la svelta se che stanza per mi soffro di malinconia ecco questa qui è la stanza del let bene qui c'è il morto ti sei ma parla no di morte che l'uracchia c'è il malloppo no il malloppo mi raccomandi ti fa passare stanza qui capito puoi farà svelta poi divento malinconico ma guarda che bella casa ma guarda che bello mobilio tutta roba in stile rococco chi l'è che lì oh signor guarda che ti vedo il ritratto del pepino garibaldi caro pepino te vedete cosa è che mi ti fa per salvare l'onore della famiglia te si ricorda quando sono venuto per rullare e a momenti invece te mi rullò a te quelli sì che erano bei tempi scusa con permesso go de laura ciao salutami il nino bixio scusa laura mi chiamo guarda quanta roba ma che bella scatoletta chissà se l'è argento e già che argento ma cos'è che fai in giro alla notte di sera tutta sola eh ti chiamingo poi resta in di per te hai freddo benissimo e io ti metto al caldo e questa chi cosa l'è più se piscinina le latose che l'altra ciao dov'è la mamma ti vorrei andare con la mamma benissimo e io ti metto con la mamma sono un filantropo dunque perché che l'alve no cosa cos'è niente ma allora perché ti si fu là e perché mi era veniva la malinconia guarda che imbecile te mi fa stremi oi grimaldelli dammi tra ti hai trovato qualcosa ma che niente tutta roba inutile pelisse biancheria vestite sera roba che ha portato via se fa marron di guardi ma da niente roba di oro niente niente pensa guida inarie per tutte mamma ti 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 dico che le più se film che rost vestiti bene vanno al teatro della scala e dopo incagano anche un gal strapelati miserabili oh mamma oh oh gente c'è tu è si arruinata è colpa ecco te dimmi oh garibaldi pepino butta giù una pupilla no 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 muove siamo salvi nel telefono che siamo salvi nella questura che mi ciappa per telefono le ti vogliamo andare a sentire perché se continua a suonare poi vieni qui vieni te cupa vieni a sentire e perché voglio andare proprio me si vieni su dai pensi no io vado però se mi metti in dentro dopo la colpa è tua pronti eh ui mi domandi se sono il giovanni ah ma allora te già per essere tu risponde sì sì rispondo di sì sono giovanni cos'è che vuole eh cos'è l'è ah sì 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 un attimo che riferisco al padrone che il dice che la sua mia ha dimenticato a casa la colana di brillanti e la portare subito al teatro della scala benissimo allora senti domandi dove l'è sì domando dov'è dov'è e sotto la preia del cifunga sinistra nella stanza dell'et l'ha scondita perché ha paura dei ladri ha fatto benissimo ha fatto bene è stata un'idea luminosa vado a vedere un attimo eh sotto la preia del cifunga sinistra della stanza dell'et va a vedere stiamo andando a vedere e di di fatti non si sa ancora comunque adesso dico sento ascolto riferisco allora guarda guarda che culana come la brilla la magnificenza chissà chissà cosa la costa chissà cosa comodo esecue alla gentil signora di nuovo pepino ti siete un grand dom e poi dicono male dei servizi telefonici ma che testa che la gavora la gente in un viale del parco e la frena signori fossimo arrivati va bene qui signori scusino ho domandato se qui va bene mi hanno detto giardini cantone dove c'è l'albergo c'è arrivati poi ma che si è morto mi quasi quasi che tu è un giardo arrivati signori siamo giunti alla metta si si ho capito è che la mia signora si sentiva male ecco va bene va bene buon uomo dunque abbiamo detto 4.50 ecco 5 lire tenete la mancia te capito signora scusi ma lei un marito insiste meglio dove è che l'è andata a te ma come ma come vi permettete vi lanciò oi stare attenti e modere i termini perché come minimo adesso gliela si dà una frustata sulla faccia ma no discente preghi ecco qui una guardia adesso sarangi i miti guardia sorvegnate che vengono un po' chi per piacere eccomi eccomi calma calma andiamo con ordine lei lei si chiama arturo pertevanelli professione fabbricante di candele senza stoppino e chissà che bella che bella giornata che bella giornata l'era stamattina vera ma che vaga avanti i bei giornati in rocca capita tutte le idee che mi riguardano vorrei ben di con un cappellone simile beh continua sì uno che bella giornata l'era stamattina e dopo 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 collezione che dici alla sciura anetta un'altra ma quanti che ha di mie ma no 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 dici la sciura anetta la sciura anetta la sciura anetta su mie ma l'amenga di prima che questa l'è la sua mie appunto appunto mie anetta anetta mie l'aninetta del vero zee beh avanti avanti ecco subito subito dunque bella giornata gli dici alla sciura anetta mie che andrà fare una bella passeggiata volentare la disney allora via d'incanto a tutti di da bracciate rium in corso genova tutta un trat pata sdangate riva su il temporale un temporale dei maledetti la farà sentire anche lui lo sentire lo sentire pensa che i giornali venne anche i temporali e senza subito beh conclusione in quella mentre che ci ripariamo sotto un portone di passaggio passa un brum di cui io mi onoro essere il legittimo manutengolo in collaborazione col bollino bestia nobile e mosca no momento ho detto basta bene insomma dicevi passa un brum quando il vero che domandi a portare a fiaggiarti il pubblic 4 e 50 fa d'accordo e salta insomma lui era d'accordo sì ma anche se anche tu c'è nera con dentro 15 50 che mangia pensa che sforzo che la fa e lui che lì mi dà di queste mani manca minacciare con la frusta e senza riguardo notine vera assurdo sorvegliante senza riguardo al gentil sesso per me che sono una donna di mondo infatti lei è una mondana dunque signor sorvegliante io volevo dire no no ti ti fa bisogno che te parli perché mi te conosci di un pezzo te coppa felice ecco hanno notato che mi dà del tè siamo amici io e la forza più lega quindi se s'altro te coppa felice brumista 116 titolare di vettura regolarmente vidimata con certificato e quel bulletin di ora tutto in ordine l'animale non parla ma io lo rappresento legalmente ma cosa che entra per farci vederla l'uomo è la bestia in regola col regolamento del marino e soprattutto con la legge che davanti alla quale ci cavo il capello la rispetto tuttora no no perché mi invece me parte no perché su che ti te ne fa di ci culore e beh adesso un certo momento se lei comincia a guardare i colori chi ande ma capicola vacca dite che domani stori caro mio l'ultima volta t'andasse smes di galera e mandasse smes e sono stati loro che me li hanno dati perché mi orreli loro hanno talmente insisti bene bene dai a cur vera come le stada sta question con questi uri e guardate di la verità a me la verità mi guardi ben di di la dunque mi ero lì sul corso di porto genova che andavo come dire a un galoppo piuttosto accellerato un busto un cavallo che fa tripassi un quadril figure m ecco vedi vedi che il metraggio anche la bestia ma le ming roba di fac un processo per infiamazione sto parlando con leggi interviene su nome dunque signor sorvegliante ero lì che stavo per voltare giù da via san marco di bei uggioni vorrei dire marco doggiono via marco d'occhionna e tutta un tratto senti ma carossa tracete fermo il bolino viene su la bella signora giovane e il signore così così piuttosto anzianotto e beh insomma fino a qui niente di malessere no loro fanno gli avventori mi fu il brumista transval l'era non cin minuti and da tracete mettere in gio tendine i tendine ma come ti fa in cordia che era and già i tendine è una mia specialità siccome vedi il sorveglianza a me preme l'onore del mio brum ho pientato in pe un intracchete conto una cordetta che appena tira in giù i tendine a me suona un campanello in mesi gambe in mesi gambe si tra polpaccio e polpaccio per così dire no lo tira in giù i tendine e il campanello fa din insomma un campanello non può mica suonare la nonna di betone se vogliamo vero ma in fin di che niente male me par no ah che par a lui perché fa il sorvegliante e per fare un mestiere così onorato e integerrimo ha bisogno di essere malissimo guardi creda si vede subito l'uomo che non ha la vocazione per la brumisteria ah se sapesse signor capellone se provasse quanti rangiò i tendine l'effetto tragico che fa sul cuore popolare di un povero e onesto brumista insomma sa i lampi mi face a malavista e ti rangiò a metà i tendine guardi non incolpi gli elementi perché chi i lampi le scalmane e le straluce ce le aveva addosso lei ce le aveva insomma ma dici basta ma qui si cerca di compromettere l'onore di una signora onesta l'onore di mia moglie ah dici si sposa carneval ma vi prego lasciate stare la santa pasqua che l'è mai è vero che c'è un proverbio che dice natale con i buoi e la pasqua con i paesi bassi ma arrivato un certo momento questi chi si imposa a pasqua e a corpi indomini sarebbe la sorvegliante un certo momento dopo che si nervose in sanca lei mi permette che parlo chiaro avanti diciamo chiariamo quella lì scusi vero signor quella lì non può essere sua moglie ma come dico spiegherollo quando la signora l'è montata in carossa lui si ferma giù attaccato alla ruota posteriore davanti e le sta lì un momento a pisano ma come si permette cosa è che ha capito a pisano un sigaro vorrebbe dire non tanto semplice allora intanto che lui era lì con il sigaro in mano a un certo momento io ho sentito una voce che veniva dall'interno del brum e che diceva fa presto fa presto vieni su caro il mio angelo e insi cosa che d'entrde mal allora io ho parlato a vambera allora lei fa l'ognorri domando fa l'ognorri quando mai si è sentito una mia che la che dice al marito povero angelo che la mia mia al massimo più seghe ciucat vuncione e sbrantinelle la mette mai la allora lei dà ragione a mia moglie cos'è che c'è fra lei e mia moglie non tanto per chiarire cosa c'è fra lei e mia moglie poi guardi sorveglianti votiamo la secchia vogliamo la seggia come diciamo noi altri a milano ma è proprio il caso di venire la mia carossa a fare all'amore alle minghe più comod fa l'incar beh insomma concludiamo questa faccenda le vero o le minghe vera quel che dice il brumista signori perché sennò mi deve fare verbale arturo per carità cerca di veder la sta faccenda pensa sennò che scandalo venire a fare sì sì ma sta quieta che pensi adesso adesso gli offrivi da ne brumista dice me sent se siete tu vinfranc dite po' che te mi conosce mi per vinfranc diventi anche suo fratello va bene sua madre posso diventare sua madre te allora te sono buone vero sì sì sono mica ma sorvegliant ma mi mi meravigli dici cosa è questo verbale mi meravigli proprio come il faga ma tu mi qualche ti brumista te mi conosce più ma noi noi ci conosciamo ma com'è se conosce un nome ti ma guardo un bello se conosce ma per bacco spera che scusi che metti su l'impennata perché senza i bernardoni non riesco a smicciare da bercossoli corbessoli ma guarda che mi guarda che roba non l'avevo intravisto nel guardarlo e pensare che siamo come fratelli ma cosa accade anche un fratello siamo fratelli siamo fratelli di latte perché mi a cincana bella il vino lui beva il latte così ma come l'è perché prima mi diceva che te conosceva in minga sì ma perché conoscei minga prima ma per colpa dell'astetica no eh l'astetica l'astetica sarebbe per via degli occhiali gli occhiali che mi decidi mai a portare proprio così per via dell'astetica ma d'ora in poi guardi giuro d'ora in poi li porto lo so lo so piacerò magari di meno ma devi proprio portare e di fatti adesso che lo guardo pulito si conosce ma è un pesce che si conosce sarà sarà Vinfrank no VinTan VinTan a lei VinTan che siamo persi di vista la traversia la guerra e tricchete sgnacchete poi è lui guardi lei lei la signora ma lei chi la signora la signora moglie del signore la signora la guardi di profilo di facciata formato tessera lei lei una donna tutta casa famiglia religione pulpette una brava gente ma che genio non 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 avessi mai conobbi della gente così proprio allora allora basta allora mi pare che la questione l'è finita l'è finita in rob te bene dico l'acqua santa ma si bene me ne diciamo quest'acqua santa buonasera i signori possono andare noi possiamo andare vero allora grazie grazie vanno grazie grazie anche a ti se vedo se vedo se troveremo una qualche volta così capita di nuovo signora di nuovo signora guardia stia bene la tegna sarà da sui la bottonera comunque sono però eh si sono sorvegliato ma guarda che sono proprio un galantone un galantone e c'è sempre scherzare sti sorveglianti in un cucciola ma che sempre fai scherzare ma perché dici così ma perché mi parla in cotalguisa si ricordano la settimana passata quando sono venuto al vostro comando che vi ho riportato persino quel portafoglio che avevo trovato dentro dell'interno della la vettura è stato un bel atto sì o no come no ma te siete perché te te le portà al comando perché l'era voi l'era voi era dentro niente anche l'era dentro niente il portafoglio ma roba ma ti pensi anche avevi non guarda dentro arrivederlo sorveglianti arrivederci buongiorno l'era voi l'era voi pensi era vuoto certo però che a voler pensarci bene quei due lì sono in peccato mortali eh caro il mebulin non c'è più religione a sto mondo